Arriverà a Napoli giovedì 11 maggio il Giro d'Italia per la sesta tappa che attraverserà alcuni dei luoghi più belli e suggestivi al mondo. Dal lungomare Partenopeo al Vesuvio, Pompei, le costiere Amalfitana e Sorrentina, Stabia, Oplontis, il parco archeologico di Ercolano, la reggia di Portici, il Miglio d'Oro. Un evento dall'impatto mediatico enorme, le immagini della gara saranno diffuse in 198 paesi attraverso più di 20 reti televisive e la carovana rosa passerà in città per la 46esima volta. Devo dire una bellissima tappa che unisce dei luoghi veramente straordinari dal punto di vista ambientale, poi anche una tappa dal punto di vista sportivo molto interessante perché non è una tappa pianeggiante, è una tappa dove ci sono anche delle salite interessanti, quindi ci sarà anche battaglia, competizione, una bella giornata sportiva ma anche di immagine e di promozione turistica per i nostri territori. Il percorso, 162 chilometri con partenza da Piazza Plebiscito che ospiterà anche il villaggio del Giro, si concluderà via Caracciolo presso Rotonda Diaz dove sono allestiti stand dedicati alla corsa ed il pubblico potrà assistere alla premiazione del vincitore. Tanti eventi per l'occasione sono in programma nei diversi comuni dell'area metropolitana. Una cosa veramente eccezionale, siamo riusciti ad avere per la seconda volta la tappa del Giro con partenza e arrivo a Napoli, quest'anno si partirà e si girerà per la zona dei comuni vesuviani della costiera sorrentina, quindi una grande vetrina ancora più importante per quanto riguarda turisti e tutto quello che è la visibilità su Napoli e provincia. Grazie. 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 Grazie.